ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di zitto zitto quattro quattro mi astengo dal pronunciare il nome in tedesco di cui appunto ignoro la pronuncia però è un'edizione multilingue che vede appunto anche l'inglese quiet as a mouse poi francese spagnolo tedesco ovviamente e alla fine l'italiano zitto zitto quattro quattro è un gioco dell'aba riconoscibile dal logo chiaramente dal giallo e una scatola grande 15 centimetri e mezzo per 23 centimetri e mezzo e profonda 4 centimetri e mezzo è un gioco dai 5 ai 99 anni per 2-4 giocatori 5 su 5 livello di abilità e 3 su 5 livello di concentrazione dura circa un quarto d'ora cercate di infilare con attenzione le vostre asticelle di legno attraverso i buchi del castello di formaggio senza sfiorare le campanelle infatti quando un giocatore è troppo energico le campanelle suonano immediatamente e il turno passa al giocatore successivo un silenzioso gioco d'abilità non c'è traccia dell'autore ma confidiamo che qualcosa ci sia all'interno così a occhio c'è un castello forato due campanelline, due dadi e una serie di bastoncini da infilare tra un buco e l'altro delle facciate del castello di formaggio apriamo la scatola e andiamo a toccare con mano quello che abbiamo visto in foto dunque dunque ecco la scatola che sembra capovolta il solito robetto della aba un altro cataloghino pubblicitario poi abbiamo il regolamento ecco le lingue come detto prima c'è tedesco, inglese, francese, olandese, spagnolo e italiano ecco che qua scopriamo che l'autore è Reinhard Staupe le illustrazioni sono di Andreas von Freyer e vabbè dura 15 minuti come detto l'italiano è in fondo ecco qui che intanto vediamo autore e illustratore e le regole sono praticamente in tre facciate contenuto del gioco c'è un castello di formaggio in quattro pezzi che saranno le due facciate e i due piedini poi ci sono le due campanelle d'allarme i due dadi a colori le sedici asticelle di legno e queste istruzioni qui è impaginato come quasi tutti i regolamenti della aba quindi con le colonne laterali per indicare i paragraffetti o sottolineare qualcosa e le colonne più larghe con il vero contenuto delle regole ci sono appunto la preparazione lo svolgimento insomma tutto abbastanza semplice andiamo a vedere il resto dei componenti ecco qui le sedici asticelle sono sedici due, quattro, sei, otto, dieci, dovi, quattordici, sei sono effettivamente una in più bene così altra pubblicità della aba poi qui le famose campanelle che hanno la mollettina per essere attaccate al castello di formaggio qui abbiamo i due dadi con i colori che indicano su quali fori infilare la sticella e qui abbiamo le due facciate vediamo se ne scoprile senza far danni perfetto come si intuiva sono i quattro pezzi sono le due facciate e i due piedini quindi il castello andrà montato così così con i due piedini che li tengono su le campanelle vanno attaccate così in modo che se poi una fa con il bastoncino tocca la campanella suona e il turno passa all'avversario bene, non ci resta che provare il gioco giocarci un numero sufficiente di partite per poi recensirlo sui giochi sul nostro tavolo grazie a tutti